Buonasera a tutti quanti che ci state ascoltando, che ci ascolterete nel corso delle prossime ore. Ricordo che siamo di fronte a un appuntamento, il nuovo appuntamento di Osservatorio Europa che tratterà il tema delle dopo elezioni middle term degli Stati Uniti. Continuiamo così un lavoro che stiamo sviluppando nel corso dei mesi e recentemente abbiamo avuto l'occasione di presentare il libro di Fiammetta Salmoni su guerra o pace, questo momento guerra, dobbiamo dire purtroppo, che ha analizzato anche molto dal di dentro le dinamiche aperte intorno ai grandi imperialismi, sicuramente quello Stato Unite, ma anche la Cina, l'Unione Europea e i rapporti tra queste aree di potenza. Ci siamo dati questo nuovo appuntamento oggi che viene aperto da Alessandro Scharcellati che ha scritto una serie di articoli sulla situazione degli Stati Uniti e appunto aveva anche fatto qualche previsione che ci sembra anche realizzata, azzeccata, il che non è poco, sulle elezioni di middle term degli Stati Uniti stessi che ci consegnano a questo punto, possiamo dire, quasi un risultato definitivo. Non è ancora definitivo, la famosa frase detta da un famoso politico italiano che negli Stati Uniti c'è la caratteristica di sapere chi ha vinto un'ora dopo le elezioni viene smentita ogni volta dai fatti e quindi credo che dobbiamo darne un buon insegnamento da questo punto di vista. Però più o meno siamo in grado di dire alcune cose, che la Camera dovrebbe essere passata ai repubblicani, che il Senato dovrebbe essere rimasto, anzi con un voto in più, ai democratici, che tra i democratici e i quelli di sinistra sono andati particolarmente bene, che tra i repubblicani in trampiani non sono andati particolarmente bene e poi abbiamo già alcuni primi effetti che dovremo affrontare di questo voto nel corso degli eventi che si stanno sviluppando, gli incontri, il G20, la Coppa 27 a Bali, ma quelle ore drammatiche anche del missile caduto in Polonia con tutto quello che sappiamo dal punto di vista delle attribuzioni più o meno vero-false che sono state fatte, anche lì si sono distinti alcuni tweet italiani nel merito. Avremo poi un nuovo appuntamento il 5 di dicembre dell'Osservatorio Europa, che continuerà quindi questa perlustrazione dei temi, questo sarà dedicato in particolare all'Unione Europea, la sua situazione, la sua condizione, anche su questo. Una discussione tra noi è aperta, è aperta nei fatti, diciamo quanto sia vittima e quanto corresponsabile della situazione in atto. Ciò detto, do la parola a Alessandro Scarsellati, che introduce, di cui vi invito a leggere gli articoli anche su Transform, sul sito di Transform, che ospiterà anche questa nostra conversazione, che sarà disponibile anche su Facebook. A te la parola, Alessandro, è anche la conduzione nei fatti. Chi vuole intervenire dopo l'introduzione di Alessandro comincia a prepararsi e a segnalare ad Alessandro stesso l'intervento, le domande, vediamo un po' che cosa sarà simulato dalla riflessione di Alessandro. Grazie a te, Alessandro. Grazie, grazie Roberto. Eh sì, appunto, Roberto faceva cenno al fatto che ormai siamo quasi a due settimane dal giorno in cui si è votato, che era l'otto dicembre, un martedì, e per alcuni risultati, in particolare quelli legati alla Camera, ad alcuni seggi della Camera, stiamo ancora aspettando i risultati definitivi. Questo succede perché negli ultimi anni è stata molto ampliata la possibilità di votare per posta o anche anticipatamente, e questo poi richiede lunghi tempi in termini anche di verifiche per fare lo spoglio dei voti. Ecco, le elezioni si chiamano mid-term perché sono a metà mandato di un presidente. Biden è stato eletto nel 2020, ecco, è entrato, diciamo, si è insediato a gennaio del 2021, quindi sono passati due anni, negli Stati Uniti si vota sempre il martedì della prima settimana di novembre, e quindi sono esattamente due anni che Biden è stato eletto presidente. In queste elezioni, come succede nel sistema americano, ogni due anni, e quindi anche in queste elezioni, si vota per rinnovare completamente la Camera dei rappresentanti, quindi 435, chiamiamoli, deputati, ecco, e poi si rinnova un terzo del Senato. I senatori sono eletti per sei anni, ogni due anni, ogni due anni, un terzo dei senatori vengono, cioè ci sono le elezioni per, diciamo, per un terzo dei senatori. In queste elezioni sono andati, i senatori erano 35 perché c'era stato morto uno che si era dimesso, eccetera. Quindi 35 senatori su 100. Poi ci sono state anche le elezioni per 36 governatori di stati, ecco, l'America è un paese federale, ha 50 stati, e anche questi sono in carica per delle durate quadrennali. E poi anche alcuni sindaci di grandi città, per esempio Los Angeles, c'è stata l'elezione per il sindaco, ha vinto una democratica afroamericana. Los Angeles è una delle città più multiculturali, dove i bianchi sono una minoranza, c'è un 50% di latinos e un 9% di afroamericani. Detto questo, le elezioni come sono andate? Sono andate appunto, come accennava anche Roberto, con una situazione che apre alcune incertezze rispetto all'amministrazione di Biden, perché tutti gli analisti davano per scontato che ci sarebbe stata un'ondata rossa, cioè un'ondata repubblicana, una vittoria repubblicana, che non c'è stata. Però i repubblicani sono riusciti, diciamo adesso non ci sono risultati definitivi, però hanno già la maggioranza sicuramente, perché sono stati ufficializzati di 219 seggi per i repubblicani e quindi siccome la maggioranza è 218, ecco la maggioranza ce l'hanno. Probabilmente avranno una maggioranza risicata di 221 contro i 214 dei democratici. Dall'altra parte al Senato la situazione è 50-49, sono 100 senatori, quindi 50-49, quindi le elezioni in Georgia, per il senatore della Georgia, ci sarà un ballottaggio che sarà il 6 dicembre, in testa è un democratico che è già senatore uscente, contro un trampiano che è un ex giocatore di football americano, un grandissimo giocatore di football americano, però un soggetto piuttosto discutibile, è stato accusato in passato di aver fatto violenza nei confronti delle proprie compagne, piuttosto che ci sono state polemiche perché lui è anti-aborto, ma poi è stato accusato forse dalle madri dei suoi figli di aver pagato l'aborto per loro. Quindi c'è una situazione controversa, però in ogni caso la maggioranza, quindi in questo caso c'è la possibilità per i democratici di arrivare a 51 oppure 50-50, ma in ogni caso il controllo del Senato sarà dei democratici perché poi nel sistema americano la vicepresidente, in questo caso Kamala Harris, ha la possibilità di votare quando c'è una situazione di stallo 50-50 e quindi in realtà i democratici se non si spaccano fra di loro sono a 51-50 e quindi sono in grado di avere la maggioranza. Sui governatorati è stato interessante perché i democratici hanno aumentato di due le loro vittorie e soprattutto hanno avuto dei successi in quegli stati che sono importantissimi perché sono quelli oscillanti, i cosiddetti stati pendolo come la Pennsylvania, e il Michigan e quindi hanno avuto insomma adesso in questo momento ci sono da questo punto di vista ci sono 26 governatori repubblicani e 24 governatori democratici. Ora, questa situazione cosa determina? Allora, il fatto che i repubblicani controllino una Camera significa semplicemente che praticamente l'azione legislativa di Biden è terminata, nei prossimi due anni avrà pochissime possibilità di far passare qualsiasi legge e quindi l'agenda democratica in realtà va in stallo, quindi sui temi come l'aborto, sui temi come l'assistenza sanitaria e su altri temi. Biden è stato in grado di far passare delle leggi molto importanti da un punto di vista soprattutto economico, ha fatto passare diciamo dei pacchetti perché nel precedente situazione i democratici controllo prima di queste elezioni e fino a gennaio perché ecco fino a gennaio c'è ancora la possibilità di fare delle cose, fino a quando non si sedia il nuovo congresso ha fatto passare una serie di provvedimenti importanti da miliardi addirittura trilioni di dollari per esempio l'American Rescue Plan da 1,3 trilioni di dollari il US Chips and Science Act che sostanzialmente è una misura di sostegno diciamo di politica industriale la che potremmo chiamare la 53 miliardi per i semiconduttori l'industria dei semiconduttori tra le altre in questa legge chi prenderà i soldi aziende americane non potrà si deve impegnare a non esportare diciamo gli ultimi l'ultime generazioni di semiconduttori alla Cina quindi è una misura che contiene anche un elemento di protezionismo soprattutto nei confronti della Cina oltre ad aver poi imposto il dipartimento del commercio poi ufficialmente ha detto che praticamente ha messo il divieto di condivisione con la Cina di qualsiasi cosa che vada dai macchinari che producono i semiconduttori fino agli semiconduttori stessi poi aveva fatto passare anche l'Inflation Reduction Act una misura ad agosto da 430 miliardi con misure anche relative all'assistenza sanitaria e ad altri campi era riuscito a fare un ordine esecutivo per abolire il debito una misura da 320-400 miliardi di valore il debito degli studenti che in America siccome le università generalmente sono private o comunque hanno delle tasse anche quelle pubbliche che sono rilevanti e quindi praticamente gli studenti per prendersi una laurea si devono indebitare e poi alla fine finiscono nella trappola del debito perché per esempio un'università privata può costare anche 50 mila dollari all'anno quindi si fa presto ecco quindi è una misura che deve interessare almeno una ventina di milioni di persone ora questo è stato fatto in passato ma da qui in avanti misure di questo genere probabilmente non passeranno mai perché ovviamente ogni misura di spesa ogni legge deve avere l'approvazione di entrambi i rami del congresso quindi siccome i repubblicani controllano controllano la camera ecco poi Biden ha promesso che lui si impegnerà a fare un lavoro diciamo bipartisan però per come stanno le cose e poi magari ne parleremo rispetto a Trump rispetto ai repubblicani è molto improbabile che diciamo i repubblicani siano disponibili a far passare qualsiasi cosa anzi è molto probabile che si ricrea quella situazione che ci fu quando c'era Presidente Clinton e poi anche Obama di gridlock cioè di stallo soprattutto sull'approvazione del bilancio perché almeno il bilancio deve essere approvato ecco bloccare tutto e si va in una situazione che in America si chiama shutdown dove il governo praticamente si chiude e quindi non ci sono più i soldi per finanziare e quindi i dipendenti vanno addirittura a casa ecco questa è una situazione che in una situazione di esasperazione politica e ideologica potrà essere da qui nei prossimi due anni potrà succedere e ora il fatto che l'altra cosa importante da considerare è che la Camera ha anche il potere di controllo sull'operato del governo questo significa che possono mettere in piedi una serie di commissioni di inchiesta ecco che possono anche essere piuttosto pesanti perché i repubblicani hanno promesso di fare investigazioni su Biden sulla famiglia di Biden sull'FBI sul Dipartimento di Giustizia sul Dipartimento dell'Istruzione e così via questo significa diciamo fino ad arrivare alla possibilità di impeachment dello stesso Biden Biden è protetto da tutto questo solo dal fatto che questa cosa non avverrà mai nel momento in cui i democratici controllano il Senato e quindi lui da questo punto di vista è c'ha una garanzia nel senso che è la Camera che fa l'istruzione diciamo delle inchieste ma poi è il Senato che deve votare sui risultati delle inchieste il Senato è anche molto importante perché è quello che diciamo la parte del ramo del congresso che poi consente di nominare i pubblici generali i giusti della Corte Suprema che sono fondamentali come abbiamo visto di recente Trump ne ha nominati tre tutti ultraconservatori e hanno questi ultraconservatori hanno spostato l'equilibrio della Corte Suprema che sarebbe una cosa che è un po' diversa ma simile alla nostra Corte Costituzionale sono nominati a vita e in questo momento i conservatori la maggioranza conservatrice è sei di sei voti contro tre quindi in sostanza abbiamo visto la demolizione negli ultimi mesi in primavera in particolare della famosa sentenza Roy Wood versus Wade sulla Bocco una sentenza che aveva stabilito che praticamente a livello federale il diritto di abortire e quindi per le donne di poter decidere autonomamente rispetto al tema di riproduzione ed è rendito dal 1973 questa questa legge questa sentenza è stata ribaltata dando agli stati il potere di fare delle leggi sull'aborto ovviamente il punto è che gli stati i congressi statali come dicevo 26 sono controllati e già prima forse erano anche di più sono controllati i repubblicani questi 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 stati repubblicani hanno tutti fatto delle leggi che arrivano addirittura a criminalizzare l'aborto stesso con inchieste penali sui medici anche sulle donne sulle famiglie eccetera oppure semplicemente a vietare quindi il tema diventa che per abortire bisogna diciamo andare viaggiare da uno stato all'altro perché ci sono stati invece per dire quelli democratici o anche qualcuno di questi repubblicani dove l'aborto è consentito questo adesso io mi fermerei però ecco era per dire che le prospettive sono piuttosto piuttosto di battaglia perché il 15 novembre si è candidato Trump ha aperto la sua candidatura alle nuove alla nuova presidenza diciamo i media mainstream e anche quelli conservatori moderati hanno dato la colpa del fatto che non ci sia stata l'onda rossa a Trump perché aveva scelto dei candidati trumpiani ovviamente che negavano il fatto che negavano la legittimità dell'elezione di Biden ricordiamo il tentativo di colpo di Stato del 6 gennaio del 2021 da parte di militanti diciamo della base e delle milizie perché lì dentro c'era tantissime milizie miliziani che hanno cercato di fare l'assalto hanno fatto l'assalto al congresso e quindi diciamo il 15 novembre Trump si ha aperto la candidatura i conservatori e i moderati diciamo i conservatori moderati e anche diciamo la stampa mainstream appunto dà la colpa a Trump come capo espriatorio però il problema è che i repubblicani bisognerebbe ragionare su cosa sono oggi cos'è oggi il partito repubblicano oggi il partito repubblicano ha una base molto attiva di attivisti che sono tutti trumpiani sono tutti MAGA cioè make America great again e questi sono pronti a diciamo anche alla violenza politica sostanzialmente ecco e questi sono circa il 40 45 40% dei repubblicani della base repubblicana i moderati ci sono però non hanno una base veramente perché è una base o comunque non sono in grado di competere con questo tipo di base quindi in prospettiva questa trump rimane sul pezzo la stampa sia liberal che moderata dei conservatori moderati pompa ronde santis che è il governatore della della florida che però non ha il carisma di trump e trump probabilmente è in grado di distruggerlo perché trump è un personaggio che lui gli ha detto io conosco tanti segreti che forse neanche tua moglie gli ha fatto già una minaccia aperta è una creazione di trump è un trumpista diciamo viene definito come trump 2.0 senza carisma più tecnocratico più grado di fare le cose eccetera basta io mi fermerei qui dicendo appunto l'ultima cosa era soltanto per dire che i democratici dall'altra parte hanno avuto dei risultati interessanti cioè almeno una dozzina di deputati di sinistra è interessante questo di sinistra non c'è soltanto più le quattro signore della squad cioè l'aucasio cortes e le altre tre ma ce ne sono altri altri otto che sono esplicitamente di sinistra appoggiati da Bernie Sanders forse anche dalla SDC dai socialist of America democratic of America e anche Fetterman che era il senatore eletto che è un tipico working class man cioè basta vederlo fisicamente è un Sander dalla parte di Sanders quindi ci saranno almeno due senatori diciamo esplicitamente di sinistra dentro dentro il senato degli Stati Uniti però ecco il grosso del partito rimane un partito centrista moderato che non è in grado a parte delle misure che ha fatto sul piano economico di articolare un pensiero diciamo che sia di riforma radicale che è quello che in realtà negli Stati Uniti ci vorrebbe perché i temi sono la disuguaglianza il razzismo in particolare i repubblicani sono dei suprematisti bianchi e bisognerebbe intervenire diciamo anche con delle politiche in questo senso però i democratici rimangono ancorati ai sceti medi che pure sono in declino però quelli suburbani moderati il white collar class in queste elezioni le donne hanno giocato come anche i giovani hanno giocato un ruolo importante per la questione dell'aborto proprio perché e quindi forse buona parte del risultato positivo dei democratici è legato alla mobilitazione delle donne e dei giovani considerando che da un punto di vista del lavoro la disoccupazione è ai minimi storici però c'è un'inflazione che è a livelli del 1981 insomma o comunque diciamo degli anni 80 e tutta una serie di nodi legati appunto ai debiti delle persone all'inflazione ai tassi di interesse il mercato immobiliare si è bloccato negli ultimi mesi perché la Fed sta facendo questa politica di rialzo violento dei tassi a botta di 0,75 ad ogni volta ecco con la possibilità come c'è in Europa di una recessione nell'anno 2023 mi fermo grazie Alessandro io penso che hai messo molta carne al fuoco quindi chiederei di intervenire tanto che arrivano le prenotazioni risottolineo nuovamente anche il rapporto con la vicenda globale quella della guerra innanzitutto che credo che questo sia un elemento importante lo dico in modo un po' così sommesso per quanto mi riguarda ho letto una cosa di Massimo D'Alema che certamente non è al centro dei miei pensieri in questo periodo della mia vita però interessante fatta a un seminario di articolo 1 quindi era riportata da qualcuno che l'ha trascritta insomma in cui parlando di Biden segnalava una maggiore continuità rispetto alle politiche trampiane dal punto di vista della politica estera di aggressività rispetto alle altre grandi superpotenze di quanto invece fosse stato il tentativo di Obama di costruire un nuovo ordine condiviso insomma ecco lo dico perché prima l'avevo dimenticato e anche perché chiederei intanto di palesarsi per poter intervenire anche sotto forma di domande c'è Ernesto a cui cediamo la parola Ernesto volevo soltanto chiederti una cosa che tu forse conosci bene essendo informato della situazione americana c'è stato quasi un anno circa un anno di svalutazione dell'euro rispetto al dollaro causata dalla politica di rialzo del tasso di interesse della fede che sarà molto più decisa di quella della banca centrale europea però recentemente l'impressione è che l'euro tenda a rivalutarsi nonostante che permanga un divario abbastanza forte dei tasse di interesse come la spieghi tu per quale motivo c'è questa tendenza alla rivalutazione dell'euro ma perché io credo che diciamo che tanto è una rivalutazione relativa perché voglio dire diciamo la perdita che c'è stata non è stata certamente recuperata e ho la sensazione che diciamo come vanno le cose rispetto alla recessione europea che mi sembra molto più ravvicinata rispetto a una recessione americana che pure non è da escludere diciamo nell'arco del 2023 credo che avremo ulteriori problemi su questo discorso specifico c'è da dire che la BCE ultimamente adesso in questi giorni sta cercando di dire che continuerà ad aumentare i tassi ma non come ha fatto fino adesso perché fino adesso negli ultimi due casi è andata più pesante come è andata pesante anche la Fed ha fatto aumenti da 0,75 e quindi questo forse diciamo ha anche questo rialzo è legato anche forse appunto al fatto che sembrava molto titubante intervenire la BCE perché la nostra inflazione forse è un po' diversa dove la questione energetica è più rilevante rispetto agli Stati Uniti non che non sia rilevante perché Biden ha dovuto vendere buona parte delle risorse delle riserve di carburanti che aveva per cercare di tenere bassi i prezzi alla pompa quindi non è che anche negli Stati Uniti non ci sia il problema diciamo come dire del energetico anche se poi loro cercano di vendere a noi il gas liquido io credo che forse i mercati sono stati un po' rassicurati dal fatto che la BCE comunque è pronta a intervenire ed interviene e quindi non che rimane come dicono loro perché ci sono tutti questi termini tecnici dicono behind the curve dietro la curva rispetto però non so io vedo molte incertezze rispetto alla situazione europea che sono evidenti sia per quest'anno che l'anno prossimo l'anno prossimo riempire le riserve di gas sarà molto più difficile e quest'anno l'abbiamo riempito perché fino a qualche mese fa il gas russo arrivava l'anno prossimo il gas russo non ci sarà e quindi noi avremo esaurito le nostre riserve arriverà certamente del gas da paesi come l'Algeria l'Egitto eccetera ma sarà difficile che possa il Qatar che possa diciamo darci la sicurezza che l'anno l'inverno prossimo l'anno venturo sarà affrontabile senza razionamenti soprattutto sia per le famiglie che per le attività imprenditoriali c'è c'è Franco e anche Pasqualina Napolitano sì dopo Pasqualina ti faccio parlare sì ma io volevo sollevare un attimo la questione diciamo la dimensione globale dell'iniziativa degli Stati Uniti e di Biden l'impressione diciamo delle ultime settimane forse dopo che i risultati per Biden si sono dimostrati diciamo meno negativi di quello che poteva temere l'impressione che un pochino il freno sugli elementi di conflittualità a livello internazionale l'amministrazione americana le abbia messo insomma il colloquio con Xi Jinping avali chiesto dagli Stati Uniti poi i cinesi hanno tenuto molto a sottolinearlo e qualche voce ancora flebile ma che soprattutto dal Pentagono più ancora che dal mondo politico viene sull'Ucraina e che dice non è che può andare avanti all'infinito la guerra e qualche specialista anche moderato di politica internazionale dice che non è che gli americani possono mettere i soldi mettere le armi e poi lasciare decidere tutto a Zelensky perché se partecipi se contribuisce a una guerra in un qualche modo devi anche soprattutto se sono gli Stati Uniti dirigere e governarla quindi mi sembra che ci sia qualche accenno lieve di cambiamento tenendo conto che poi nel versante repubblicano sulla Cina non credo ma sull'Ucraina qualche voce anche lì un po' insufferente su tutta la vicenda perché poi gli americani gli Stati Uniti credo a differenza dell'Italia dove la retorica sostituisce la politica negli Stati Uniti c'è la retorica per i televisioni della sera e poi c'è il dibattito politico che in genere mi sembra molto più spiccio molto più franco molto più spiccito cioè gli Stati Uniti si dice noi stiamo con l'Ucraina però l'Ucraina per noi è una questione importante ma non è globale quindi fino a lì ci arriviamo oltre a quello non ci andiamo perché comunque noi andiamo avanti lo stesso e quindi lì le cose sono più chiare ecco anche da parte repubblicana qualche voce un po' critica sull'Ucraina è cominciata a venire fuori il problema è poi rispetto all'Unione Europea perché lì la politica di Biden è comunque di allineare l'Europa dietro gli Stati Uniti partendo e finisco dal presupposto lo ha detto Blinken chiaramente ma insomma è evidente che nel confronto globale con la Cina gli Stati Uniti non possono andare da soli che era un po' l'idea di Trump ma devono andarci con degli alleati ed è chiaro che gli alleati sono innanzitutto l'Unione Europea per questo presuppone che l'Unione Europea sia alleata dietro gli Stati Uniti non di fianco degli Stati Uniti tanto meno davanti cioè sentono la politica autonica ecco tu che impressione hai diciamo potrà cambiare qualcosa o comunque più o meno le questioni la politica della nazione americana resterà la stessa bene io penso che allora il fatto che i repubblicani controllino la camera può essere un elemento di condizionamento perché i repubblicani hanno detto da tempo anche McCarthy che è il possibile candidato poi vedremo perché anche lì c'è una spaccatura all'interno dei repubblicani tra i trampiani e i cosiddetti moderati diciamo però lui ha già detto che è finita l'era degli assegni in bianco per Zelensky e quindi adesso c'è ancora fino a gennaio siccome c'è la maggioranza vecchia Biden farà passare ancora un altro pacchetto ma poi dopo pacchetti sarà difficile perché sostanzialmente i repubblicani al di là di un'ideologia isolazionista in realtà considerano il vero nemico non tanto la Russia ma la Cina e quindi il problema per loro è la priorità è la Cina e questa guerra viene vista come un qualcosa che distrae l'attenzione dal vero obiettivo io ho questa sensazione l'altra cosa per quanto riguarda l'Europa noi ci siamo messi dietro noi dico l'establishment europeo si è messo diciamo piuttosto acriticamente almeno fino adesso dietro la leadership americana però se fra due anni nel 2024 ci sarà Trump di nuovo o comunque un trampiano al diciamo a guidare il paese a pagare gli Stati Uniti tutta la tutta la retorica sulla la leadership del del mondo democratico rispetto all'autocrazia eccetera sarà difficile da sostenere già lo è in realtà perché gli Stati Uniti sono un paese iperpolarizzato dove c'è una parte importante c'è una parte del partito repubblicano che sostiene che il partito democratico è illegittimamente illegittimamente al potere cioè Biden è un presidente illegittimo questo è un dato di fatto quindi diciamo poi rispetto alla Cina e chiudo poi lascio la parola Pasqualina rispetto alla Cina è vero ricordiamoci però che la Pelosi andò a Taiwan pochi mesi prima esasperando la situazione in maniera incredibile è una provocazione continua questa cosa di Taiwan che per la Cina è una provincia come dire tra virgolette ribelle che fa parte dello Stato cinese e che c'è un'offerta da parte dei cinesi che è quella della una Cina due politiche però abbiamo visto che a Hong Kong è finita e dall'altra ecco c'è questo discorso che Biden sostanzialmente continua a lavorare per creare delle coalizioni nell'Indo-Pacifico e altrove che sono totalmente anticinesi quindi sia dal punto di vista politico e militare continua a fare la corte all'India in tutti i modi perché abbia un atteggiamento nei confronti della Cina negativo e poi le misure di protezionismo il protezionismo cioè la storia dei CIP non è secondaria è l'elemento fondamentale di una politica di come si dice non di disallineamento di adesso mi viene a mettere la parola in inglese ma comunque di divisione sostanzialmente di creazione di due mondi economici e politici completamente diversi disaccoppiamento disaccoppiamento ecco mi veniva decoupling mi veniva a mente e questo è questo è cominciato con Trump con le politiche commerciali di protezionismo però tanto quelle misure non sono state neanche revocate tanto per essere chiari mentre rispetto all'Europa dell'acciaio queste cose qua sono state anche la vicenda degli aerei dei Boeing verso l'Airbus sono state risolte poi i cinesi sono rimaste le misure protezionistiche e ne sono state messe nuove su o in termini sui sui semiconduttori sui chips è lì che si gioca la partita come sappiamo perché i chips vanno in tutti i prodotti e quindi si possono creare in prospettiva due economie diverse o comunque è un tentativo per rallentare la crescita della Cina che già ha i suoi problemi perché è in piena crisi immobiliare c'è una crisi dell'immobiliare che fa paura e che lo Stato cinese sta cercando in qualche misura di metterci una pezza oltre a continuare a fare le politiche quelle dei lockdown severi in termini di sul covid quindi ci sono ancora questa settimana ci sono ancora morti e poi comunque ci sono città che vengono chiuse prego Pascalina sì io volevo fare due domande ma in parte tu hai già risposto perché la prima riguardava proprio il giudizio che che dai dell'incontro tra Biden e Xi Jinping e quindi insisto in questo quadro che giudizio dai di quell'incontro nel merito non si è saputo moltissimo però può essere interessante capirne il significato così come l'altra questione che volevo porti era esattamente il in questo quadro relativamente cambiato il rapporto con la sulla situazione dell'Ucraina in particolare sull'Europa anche perché l'Europa si ha dato segnali figuriamoci di schiacciarci di schiacciarsi completamente sulla posizione atlantica tuttavia non ricordiamo il viaggio di Scholz in Cina proprio in un momento abbastanza significativo della tensione con questo paese misure protezionistiche è chiaro che la Germania non renderà mai esplicito perché appunto quello che fa la Germania lo si vede da da come si muove nel campo appunto dell'economia degli scambi ma è difficile che espliciti una posizione politica tuttavia sulla questione dell'Ucraina in questi stop and go l'ultima è la dichiarazione mi pare di oggi di Stoltenberg che indurisce però è un fatto che ci siano stati appunto gli incontri dell'intelligence russa e americana in in Turchia insomma che che ci sono stati segnali ecco se potessi un po' andare più a fondo di questi analisi allora l'incontro tra Biden e Xi è stato sicuramente importante perché intanto è la prima volta che si sono incontrati di persona mentre prima avevano fatto incontri online e come sappiamo l'incontro online sì diciamo aiuta però l'incontro in presenza è tutt'altra cosa perché ci si crea anche un minimo di empatia tra chi e chi si incontra ecco la cosa importante da quello che capisco è che sono stati ristabiliti dei come dire dei meccanismi di dialogo di interlocuzione che erano stati sospesi dai cinesi a seguito proprio del viaggio della Pelosi e queste cose intanto c'è un discorso di collaborazione su questioni che per noi sono forse più importanti di tutte che è quello sulla discussione sul clima quindi sul fatto che se non si mettono intorno al tavolo i cinesi insomma i grossi operatori non si fa un passo avanti quindi si ristabilisce un dialogo su questo tema si ristabilisce un dialogo sulle questioni militari perché da quello che ho capito è stato ricostituito il canale di comunicazione diretta c'è stato l'avallo politico per ricostituire un canale diretto tra diciamo la PLA cioè tra le forze armate cinesi e il pentagono americano sostanzialmente ecco perché poi come sappiamo c'è un confronto ma incidenti possono capitare e quindi se non ci sono delle vie di comunicazione dirette si rischia poi di arrivare alla terza guerra mondiale velocemente ecco quindi credo che sia importante ecco rimane il fatto che la Cina ha un desiderio poi possiamo tutti discutere sulla Cina la Cina avrebbe un desiderio che è quello fondamentale di essere riconosciuta come una potenza da parte degli Stati Uniti e quindi di poter sedere ai tavoli e quindi di non dover subire solo quello che gli Stati Uniti decidono e quindi e questo è quello che loro dicono apertamente ormai da anni ma su questa parte non si fa un passo avanti nel senso che gli Stati Uniti in realtà al momento sono impegnati a precludere al fatto che la Cina nell'Indo-Pacifico cioè nella sua area di riferimento proprio territoriale possa in qualche misura essere riconosciuta come la potenza regionale almeno ecco perché gli Stati Uniti mandano a parte le loro basi che ci sono le alleanze che hanno e poi mandano le loro navi a passare nello stretto di Taiwan un giorno per l'altro eccetera quindi tutte cose che sono per i cinesi che hanno subito cento anni di colonialismo europeo che andava dalle guerre dell'oppio fino al 1949 non sono più disposti a tollerarle anche perché la crescita economica che hanno avuto gli consente di investire in sicurezza nell'esercito ci hanno tre portaeri cioè voglio dire comunque sono sono quello che sono ecco con tutti i limiti eccetera sul piano dell'Europa e rispetto a un discorso ucraina io credo che il problema è che gli Stati Uniti hanno 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 certamente poi adesso poi ognuno ha le sue idee su come si è arrivati alla guerra di come le cause remote vicine lontane però certamente ecco gli Stati Uniti hanno delle forti responsabilità sulla guerra gli europei hanno delle fortissime responsabilità perché in sostanza se si fosse dato seguito alle proposte di Gorbachev della Casa Comune Europea non ci troveremmo in questa situazione e gli europei sono stati quelli che hanno tradito per primi Gorbachev e gli americani l'hanno cavalcato questo tradimento ecco quindi diciamo che gli Stati Uniti un risultato fondamentale l'hanno ottenuto quando lo stream il gasdotto stream è stato fatto saltare per aria ecco praticamente questa è la dimostrazione plastica del fatto che l'Europa non non avrà forse magari mai più il gas russo e quindi nella sostanza l'Europa va in recessione economica diventa dipendente dagli Stati Uniti per il gas o dal Qatar e dagli Stati Uniti insieme e quindi diciamo l'industria europea è a rischio la Germania e l'Italia che sono le due potenze industriali tra virgolette l'Italia diciamo comunque siamo la seconda la seconda potenza europea industriale rischiano la deindustrializzazione noi abbiamo ancora un apparato industriale importante come ce l'ha la Germania più di noi e si rischia ecco quindi questi aspetti sono rilevanti perché gli Stati Uniti stanno combattendo una guerra per sostanzialmente una guerra loro col resto del mondo e quindi anche con noi per ristabilire la loro egemonia che sul piano economico è certamente andata in declino ecco sul piano finanziario sono sicuramente ancora una potenza sul piano industriale non più hanno certamente poi tutte le regole della brevettazione del copyright eccetera gli consentono di vivere di rendita rispetto a tutta una serie di tecnologie però il settore industriale americano è sostanzialmente credo l'otto per cento del PIL americano poi se dentro ci mettiamo il military industrial complex il resto si riduce a ben poca cosa l'economia americana è un'economia di servizi come lo siamo in gran parte anche noi però della potenza economica quindi non lo so ecco queste sono le cose che mi vengono in mente c'è qualcun altro che vuole intervenire io volevo farti due domande Alessandro che sono una è questa tu hai accennato appunto a delle componenti di sinistra alla Sanders in queste ultime elezioni volevo da te delle informazioni adesso oppure successivamente sull'evoluzione appunto di dinamiche di sinistra all'interno sia dello schieramento politico tradizionale cioè dei democratici sia fuori anche dei democratici cioè se ci sono delle dinamiche che consentano di rompere la relazione oligarchica fra i repubblicani moderati e i democratici e questa è la prima domanda la seconda domanda invece è un po' hai già evidentemente già hai risposto chiaramente a Pasqualina ma io vorrei riprendere sottolineando due punti uno io penso che i democratici sul piano della politica diciamo del imperiale non siano particolarmente differenti dai repubblicani cioè dire come tu stesso mi pare che abbia detto individuo nella Cina il competitor strategico e secondo me Biden appunto tenta invece un rapporto con la Cina competitivo per come tu hai detto i chips e non solo ma anche per diciamo così invece anche per eliminare diciamo la Russia dal gioco geopolitico mondiale e stabilire un rapporto con la Cina e in questo ovviamente il vaso di coccia è l'Unione Europea perché l'Unione Europea è costretta a importare gas ai prezzi che ben sappiamo anche dagli Stati dagli Stati Uniti che non fanno sconti evidentemente sul piano sul piano economico e inoltre però su questo io non so se raccolgo bene le cose che diceva Pasqualina io credo che l'Europa sia molto in sofferenza cioè lo schieramento diciamo dietro l'alleanza atlantica per quanto riguarda la guerra in Ucraina nasconda a mio avviso delle tensioni quindi il rapporto che c'è stato fra l'Unione Europea e gli Stati Uniti negli ultimi decenni adesso non voglio dire cioè abbastanza conflittuale è il tentativo dell'Unione Europea di rendersi indipendente non vengono meno perché gli accenti che ci sono sia il viaggio di Scholz nonostante le critiche interne alla Germania sia le posizioni francese sull'autonomia strategica anche difensiva secondo me testimoniano comunque di tensioni fra l'Unione Europea e gli Stati Uniti certo come ci ricorda sempre Ernesto e come tu Alessandra hai ribadito mettere in discussione l'egemonismo americano in termini finanziari per quanto riguarda il dollaro e in termini anche di energia per quanto riguarda la crisi energetica che c'è e che attanaglia l'Unione Europea non sarà facile portare avanti delle linee diciamo autonome però io non vedo acquietata ha pacificato ha pacificato il rapporto fra Unione Europea e Stati Uniti i quali tendono appunto invece a riaffermare su scala globale la loro la loro egemonia grazie per le risposte in anticipo sì allora sulla prima il discorso della sinistra diciamo americana allora io credo che sia rilevante questo fatto che si apre comunque uno spazio dentro il partito democratico perché comunque siamo sempre dentro un sistema bipartitico costruire un terzo partito è una possibilità ci hanno provato intanto soprattutto a destra però è piuttosto complesso perché la sinistra avrebbe la possibilità e ha la possibilità di utilizzare la sinistra democratica diciamo questa che appunto fa capo a Sanders che poi tra le altre non è neanche un membro del partito democratico effettivo ma è un indipendente ecco è interessante questa cosa di utilizzare come hanno utilizzato credo questi che sono stati eletti questi 12 deputati che sono interessanti perché sono giovani hanno chiaramente un approccio rispetto alle politiche redistributive tutto il tema dell'assistenza sanitaria quindi si dimostra che si possono vincere delle elezioni in alcuni contesti anche in Texas c'è un deputato che è stato eletto in Texas e quindi non è che gli americani non sono disponibili evidentemente in assoluto a ragionare su politiche diciamo socialdemocratiche o di indirizzo socialista ecco anche in questa situazione di iperpolarizzazione che c'è dove se Trump un giorno su due attacca i democratici come pericolosi e folli soggetti di sinistra ecco tanto per essere chiari anche Biden per perché pure è un centrista moderato per per uno come Trump è un'estremistra di sinistra ecco ecco negli Stati Uniti c'è questa c'è un un ritorno del sindacalismo eh di base però ecco con delle vittorie in alcuni contesti anche nelle grandi società eh diciamo quelle della della dell'economia digitale eh di 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 sindacalizzazione oppure nei servizi appunto i servizi sono poi in realtà il grosso dell'economia americana c'è per esempio adesso in corso un'azione sindacale contro la Starbucks di 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 organizzazione di scioperi eccetera eh in America c'è questo fenomeno delle catene delle grandi catene no commerciali di servizio no e quindi però diciamo si fa molta fatica perché poi in realtà il sindacalismo quello quello tradizionale eh non è è è supposizioni spesso non dico corporative però sostanzialmente ecco non disponibile diciamo a estremizzare a radicalizzare in forme anche un po' politiche eh diciamo poi l'altra cosa è che in molti stati americani rispetto al sindacalismo c'è eh soprattutto quelli eh non soprattutto quelli dove ci sono delle maggioranze repubblicane il sindacato spesso viene messo proprio fuori legge ma non nel senso completo del termine ma nel senso che passano ci sono state approvate leggi che vengono chiamate right to work cioè eh diritto al lavoro ecco che eh significano sostanzialmente che per costruire costituire una una cellula sindacale all'interno di un'azienda o comunque di fare riconoscere il sindacato è complicatissimo di avere dei 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 devi fare delle delle lotte di convincimento dei lavoratori devi avere dei certi numeri devi fare dei referenti cioè è una procedura piuttosto complessa eh comunque diciamo ecco eh io io penso che questo risultato di questa di queste tornate sia interessante ecco sia interessante e possa possa essere generatore di nuovi spazi di nuove voci di nuove narrazioni ecco perché poi questo è importante no? perché se non si parla proprio per niente di nulla invece avere qualcuno che può prendere la parola è già già un punto di partenza eh rispetto al tema al secondo tema eh diciamo che era quel che è quello appunto dell'Unione Europea eh rispetto agli Stati Uniti ecco io torno a ripetere eh intanto c'è lo spettro per gli per l'establishment europeo di una situazione molto incerta Biden avrà 82 anni nel 2024 e quindi voglio dire un presidente che viene eh difficile che insomma magari ci sarà un altro eh Trump ne ha 76 oggi quindi ne avrà 78 c'è la gerontagrazia al potere diciamo in questo momento negli Stati Uniti quindi ci sarà un problema di ricambio generazionale oppure invece verranno confermati questi due uno dei questi due vecchi e se viene Trump eh credo che eh lo scenario eh gli europei siano preoccupati ecco perché è una possibilità molto concreta eh perché non abbiamo parlato stasera di come si vincono le elezioni presidenziali negli Stati Uniti che è tutta una procedura antidemocratica legata al processo al processo come anche parte del sistema eh del congresso è antidemocratico perché eh i senatori sono due per Stato Washington DC che ha la popolazione superiore a quella del Vermont e di altri stati non ha un senatore ecco ma gli altri stati hanno due senatori ma il Wyoming per fare il caso ha cinquecentosessantamila abitanti eh e fa due senatori la California ce n'ha trentanove di milioni e fa due senatori allora voi capite che è un po' complicato questo è frutto di un compromesso che venne fatto ai tempi dello schiavismo che però è immodificabile perché la Costituzione americana anche approvare un emendamento alla Costituzione oggi è praticamente impossibile ci vogliono trentotto voti dei 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 degli stati immaginate se i repubblicani ne controllano ventisei cioè su qualsiasi questione si mettono di traverso non riescirai mai ad approvare eccetera quindi eh dicevo eh ora eh rispetto all'Unione Europea il problema concreto che noi abbiamo è la recessione e allora la recessione credo che faccia pensare a molti che forse eh diciamo bisogna trovare delle soluzioni alternative e che questo discorso di seguire gli Stati Uniti i quali forse andranno in recessione forse no però hanno situazioni eh di per esempio di soprattutto per l'energia molto diverse dalle nostre cioè in realtà non hanno un problema energetico sostanziale ecco perché il loro vero problema è che il mercato del gas americano non è globale e quindi questa guerra in qualche misura è una guerra per far diventare il mercato americano un mercato globale cioè aprire eh e questo abbasserebbe molto i costi e renderebbe anche perché ci sarebbero sicuramente anche maggiori investimenti eccetera però eh questo è tutto un altro discorso ora eh io credo che eh diciamo eh in qualche misura eh come come si diceva prima il caso della Germania che va in Cina o che consente ai alla Cosco di avere una quota di partecipazione eh ad Hamburgo no? Ecco è chiaro che eh diciamo dimostra che c'è un tentativo e di di avere uno spazio autonomo però il problema è che rimane sempre quello che in Unione Europea poi non è solo la Germania ecco è fatta cioè noi abbiamo questo sistema no? che sappiamo che non è federale è un sistema è un sistema diciamo dove gli stati contano e poi ci si conta e fino adesso ci si conta e non c'è una decisione a maggioranza eccetera eccetera quindi in realtà l'Unione Europea su queste cose ha dei tempi molto lunghi e molto complessi in questi casi di crisi mentre invece negli Stati Uniti si fa presto a prendere le decisioni e questo forse è anche un elemento di grande differenza c'è Andrea prego Alessandro io vorrei che tu continuassi un po' ad approfondire questo discorso degli atteggiamenti degli Stati Uniti non chiaramente hai spiegato l'atteggiamento nei confronti dell'Unione Europea nel suo complesso però come giustamente dicevi tu i singoli stati hanno importanza e abbiamo visto comportamenti diversi degli Stati Uniti nei confronti dei singoli stati almeno quelli che contano fino ad arrivare alla pacca sulle spalle a questa benevola diciamo a condiscendenza e attesa nei confronti della nostra Presidente del Consiglio ecco allora senza arrivare a quello che succederà alle prossime elezioni ma nei prossimi due anni secondo te è possibile vedere dei cambiamenti ci sono delle cose nuove che si prospettano cioè insomma continuerò a mettere degli stati membri dell'Unione l'uno contro l'altro oppure punta di più su qualcuno per insomma ecco l'atteggiamento nei confronti dei singoli stati secondo me diciamo fatta salva il tema della recessione ecco l'atteggiamento degli Stati Uniti per gli Stati Uniti questa situazione è il massimo che loro possano ottenere cioè in sostanza l'Europa è il loro maggiore competitore rispetto a tutto anche la relazione con la Cina non ha la possibilità di stabilire un rapporto diverso anche il rapporto con la Russia cioè voglio dire il famoso discorso dell'Eurasia di cui abbiamo parlato anche in passato cioè non è non era una cosa da poco ecco mettere fuori gioco il rapporto tra l'Europa e la Russia visto diciamo la come dire la interdipendenza che questi questi due mondi il mondo europeo diciamo dell'Unione Europea e la Russia hanno avrebbero perché noi abbiamo i capitali loro non hanno i capitali e noi ce l'abbiamo loro noi non abbiamo le risorse le materie prime loro ce l'hanno cioè voglio dire era un matrimonio proprio da da celebrare sarebbe stato un matrimonio infatti voglio dire anche quando si criticano i tedeschi diciamo no ecco cioè è voglio dire non era non era pensata male come discorso è ovvio che poi Putin e il suo regime sono forse inconciliabili diciamo con 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 le nostre con i nostri cosiddetti valori ecco ora io credo che gli Stati Uniti questa guerra ha messo mette KO all'Unione Europea soprattutto la Germania e e quindi per loro è il massimo risultato che possono ottenere rispetto a un rapporto con l'Europa cioè è più di così non so ho difficoltà a pensare e soprattutto vediamo cosa succede anche nel rapporto con la Cina perché se riescono in qualche misura a distruggere anche il rapporto tra Unione Europea e Cina dopo l'Unione Europea veramente non so si dovrebbe occupare dell'Africa ecco forse sì ecco forse sicuramente anzi sarebbe importante che si occupasse dell'Africa con una certa attenzione che non sono in termini neoimperialisti e neocoloniali però ho la sensazione che diciamo sia difficile che ci siano vedo non vedo degli interlocutori diciamo diretti in Europa a parte vabbè certo Macron è un interlocutore ma la Germania sicuramente lo è però ecco non mi pare non mi pare appunto che ci sia un interesse più di tanto a modificare questa situazione io credo che si trascinerà fino a che sarà possibile in maniera tale che si eviti che certo che si eviti la catastrofe non credo che gli Stati Uniti siano interessati che al fatto che gli europei diciamo abbiano una recessione che ci azzera ecco però certamente gli fa gioco il fatto che che le economie dell'Unione Europea si indeboliscono ecco prego Roberto Roberto Rosso ah vabbè Roberto Musacchio poi Roberto Rosso dai per continuità col tema io pensavo che stavamo chiudendo però per continuità col tema è anche per punto di vista diverso bisogno di dirlo questo nel senso a me questa ricostruzione dell'Unione Europea che fa l'anello l'agnello sacrificale con gioia di partecipare al pranzo pasquale degli Stati Uniti a me non convince cioè io francamente non riesco a capire se le conseguenze di quello che sta succedendo sullo scenario globale con la guerra con la Russia e l'Ucraina è la distruzione dell'Unione Europea perché l'Unione Europea sta partecipando con così tanto entusiasmo e appunto e manifesta condivisione cioè ora io penso che ci sia naturalmente un elemento di interesse totalmente diverso dei gruppi dirigenti rispetto ai popoli questo non c'è dubbio e quindi questo è un elemento ma io penso che non a caso insomma l'Unione Europea continua le politiche che ha fatto durante la fase di Bush io prima avevo citato D'Alemma giustamente non l'avete ripreso perché forse la citazione non era opportuna però non c'è dubbio che la fase di guerre più marcata è stata in questo caso quella repubblicana di inizio millennio quella si è bloccato Bush figlio e così via e io continuo non ho capito ha goduto in termini indiretti e diretti delle conseguenze di queste di questa espansionismo degli Stati Uniti arrivava la Nato e subito dopo arrivava però o la Germania o la Francia e quatt'altro cioè la Germania ci ha portato a casa comunicazione e ha portato a casa il controllo su interi territori c'è la Repubblica Sceca la Cecoslovacchia era allora la Polonia le varie aree di influenza compresa l'Italia che l'ha praticata verso l'Albania e così via questa questione non mi inconvince ecco siccome la tratteremo anche nel prossimo appuntamento credo che sia diciamo giusto insomma un po' esplicitarla diciamo questa diversità anche di punto di vista ecco in questo posso ti dico soltanto una cosa breve dico guarda cosa sta succedendo con la Polonia però attenzione cioè la Polonia bypassa completamente Bruxelles e va direttamente a Washington e diventa diciamo la testa di ponte americana diretta e forse anche la più importante potenza militare europea alla fine diventerà in grado di competere a parte vabbè sappiamo che la Germania ha in programma un riarmo ecco però diciamo la potenza militare in questo momento è tolta l'Inghilterra che è fuori dall'Unione Europea e la Francia ecco e la Polonia si candida a essere diciamo a livello non avrà forse le armi nucleari non avrà le armi nucleari però si sta si sta attrezzando per e la Polonia non è molto amica di Bruxelles non credo che sia in grado di cambiare l'ordine gerarchico europeo però rispetto ai paesi dell'est questa guerra diciamo dell'ex Europa dell'est questa guerra sta evidenziando una chiara frattura tra paesi baltici Polonia Cecoslovacchia Cecchia Slovacchia lasciamo l'Ungheria da parte che ha un rapporto diretto con Orban con Putin però certamente questi sono e sarà un casino per l'Europa nei prossimi anni perché questo tema della conflittualità dell'anti russo di essere anti russi diciamo ce lo trascineremo per decenni abbiamo dato questa guerra che ha ossigeno a dei soggetti che odiano i russi per carità hanno ragione hanno tutte le loro ragioni rispetto storiche eccetera ma la Russia sta qui nel nostro continente cioè non è che sta sulla luna quindi noi prima o poi dovremmo cercare di comunque ricostruire una relazione avere aver pompato e pompare diciamo questi soggetti politicamente e militarmente sarà un casino che non non riusciremo ci vorranno decenni per uscirne capito che ti voglio dire quindi l'Unione Europea si spacca in tanti modi ecco si spacca anche così io penso che c'è un filone di pensiero dentro l'establishment europeo che arriva da lontano che pensa che il conflitto con la Russia sia fondativo dell'Unione Europea però appunto è materia di dibattito mi pare che c'era Roberto Rosso Roberto Rosso vai Roberto Sì ma io il mio è un invito ad approfondire alcune cose in particolare la competizione con la Cina nel senso che stavo adesso guardando un articolo di Marco Deramo sulla New Life Review che era intitolato con punto di domanda il declino americano dove lui diceva no dove è evidente che rispetto al complesso dove il dominio il dominio americano rispetto al complesso delle tecnologie e al controllo dei capitali dei mercati finanziari oltre che i singoli capitali evidente però diciamo la questione per esempio dei semiconduttori è una questione dal punto di vista americano difensiva perché si erano troppo affidati da una parte Taiwan e Taiwan è in questo momento un territorio come dire ballerino dall'altra Taiwan a sua volta si affidava moltissimo alla produzione nella Cina continentale dall'altra abbiamo un'espansione in moltissimi campi del digitale cinese assolutamente straordinario dove voglio dire in tutte le grandi aree Europa Stati Uniti e Cina lo strapotere delle delle spero che no c'ho un problema di batteria vabbè finisco in fretta lo strapotere delle corporation digitali è importante la contraddizione col potere politico ovviamente la Cina lo affronta e lo ha affrontato in maniera diversa c'è anche la penetrazione della Cina in Africa in particolare ma anche in Latino America cioè per certi aspetti tu parlavi di riconoscimento di potenza regionale secondo me anche a leggere tutta una serie di documenti degli Stati Uniti gli Stati Uniti ragionano in maniera difensiva rispetto a quello che sarà la Cina tra dieci anni ecco quindi la situazione mi sembra un po' più complessa e credo vada approfondita tipicamente l'Indo-Pacifico che è uno dei terreni vabbè che ne so c'è stato lo schiaffo degli Stati Uniti ai francesi sui sommergibili nell'accordo fatto con l'Australia in Inghilterra eccetera questo è un aspetto il rapporto con la Cina io non credo che il rapporto con la Cina per la Germania in particolare credo sia vitale e credo siamo appena all'inizio di una nuova situazione il perché 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 è crollato lo schema su cui si fondava il predominio il predominio tedesco sull'Europa quindi l'espansione delle filiere produttive nell'Europa centro-orientale e l'acquisizione di energia a basso costo da parte della Russia stante tutte le evoluzioni sappiamo la Nato ha cerchiato ha fatto non c'è stato l'accordo con Gorbachev poi ha come dire ha schiacciato il bottone ha pigiato il grilletto per far saltare tutto lo schema è stata una decisione russa che non è che sono i cattivi dentro un confronto strategico ma sono loro che hanno fatto saltare quindi con la guerra in Ucraina hanno fatto saltare sono loro che l'hanno fatto saltare non sono gli Stati Uniti che hanno fatto saltare lo schema economico lo schema economico tedesco hanno fatto saltare come dire hanno fatto saltare il banco hanno deciso loro quando farlo che tutto fosse precario e ci fosse e ci fosse e progressivamente la Russia fosse stata circondata dalla Nato eccetera eccetera era un dato che però con l'invasione di Lucrania si è assaltato tutto lo schema economico che poi ci sia stata la questione facciamo saltare il gasdotto eccetera però c'è stata una scelta disperata quanto è però a me interessa dal punto di vista europeo è saltato quella roba lì quella roba lì che teneva in piedi tutto lo schema europeo il modello economico tedesco sostanzialmente tra l'altro in una fase di trasformazione dell'economia è assolutamente straordinario perché tutto il ciclo dell'auto che ha un'importanza enorme che la Germania ha un ruolo a livello mondiale che ben sappiamo con il passaggio all'elettrico e tutta un'altra serie di questioni e altre trasformazioni l'Europa che non ha i grandi campioni digitali che hanno gli Stati Uniti o che ha la Cina e non è e non è riuscita neanche a fare una grande industria militare perché negli accordi ci stanno la Francia e la Germania di volta in volta la Spagna non ci sta l'Italia non ci sta neanche su quello sono riusciti a fare cose quindi da questo punto di vista per la Germania essendo saltato che sono d'accordo definitivamente il modello appunto filiere da una parte d'altra parte il rapporto con la Cina era già importante dal punto di vista economico non è che diventa importante adesso e credo che sarà fondamentale in futuro perché è saltato lo schema precedente quindi il complesso e la situazione economica complessiva che se ne deriva è instabile è assolutamente instabile in uno schema instabile tutti gli attori possono giocare in uno schema molto stabile molto vincolato valgono le gerarchie qui le gerarchie valgono sino a un certo punto anche perché e qui la chiudo però la mia non sono delle affermazioni le mie sono inviti ad approfondire anche perché la situazione finanziaria è una situazione assolutamente ballerina non ci sono elementi elementi di stabilità finanziaria se ne discuteva l'altra volta sull'egemonia del dollaro per ora l'egemonia del dollaro c'è e resta perché il ruolo della moneta cinese e dell'euro sono per ora sono assolutamente minoritari però sono quelle situazioni in cui come dire i passaggi non sono continui e lineari ma possono essere dei salti ecco io credo che appunto la nostra attenzione la nostra analisi la nostra il ruolo di questo di questo tipo di discussione che emerge in questo tipo di discussione è di osservare attentamente una situazione profondamente instabile e aggiornare rapidamente le analisi fine grazie comunque per il quadro che ci hai offerto grazie Roberto ma io brevemente poi se c'è ancora qualcuno se no chiudiamo io penso sono d'accordo con te il quadro è totalmente instabile sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista finanziario ci sono 50 paesi in questo momento che il fondo monetario internazionale dice che sono sull'orlo della banca rotta molti di questi sono paesi poveri però diciamo un paese come il siri lanca è già saltato quasi un anno fa ecco più o meno si cerca di salvarlo eccetera il pakistan è stato salvato temporaneamente dal fondo monetario internazionale con i soldi con dei soldi dati eccetera quindi c'è una situazione di instabilità che è appunto economico finanziaria politica ricordiamoci sempre non dimentichiamoci mai che questa guerra in Ucraina ha spaccato il mondo non solo sul fatto che c'è un occidente come dire che appoggia l'Ucraina ma poi dall'altra parte non c'è solo la Cina ci sono tantissimi paesi due terzi della popolazione mondiale che non ci pensano proprio a mettere le sanzioni non ci hanno pensato proprio a mettere le sanzioni alla Russia e non ci pensano proprio a interrompere le relazioni le relazioni diciamo diplomatiche con la Russia cominciare dall'Algeria con cui noi abbiamo fatto un patto diciamo rispetto al gas in questi giorni si discute in Algeria proprio sui rapporti anche militari con la Russia per dire tutto il tema dell'Africa sappiamo del ruolo della Wagner rispetto ai paesi del Sahel e non solo ecco quindi la Cina rispetto a tutto questo è molto interessante perché da un certo punto di vista è temibile la temiamo tutti sappiamo tutti i cinesi eccetera però ecco se non altro diciamo poi dopo tutti dicono la potenza militare eccetera la Cina al momento ha una sola base militare fuori dal proprio paese è Djibouti gli Stati Uniti hanno basi in 80 paesi cioè voglio dire di cosa stiamo parlando no? dal punto di vista dei rapporti delle relazioni tu citavi l'Africa il Sud America certamente la Cina ha la strategia quella che ufficialmente passa sotto la nuova via della seta la Bri ecco che consente alla Cina di esportare un surplus di capitali che evidentemente in Cina sarebbe difficile investire e li investe in infrastrutture in tutta una serie di attività diciamo che possono essere anche sicuramente possono essere definiti neocoloniali però ecco certamente pongono molti meno vincoli politici ai paesi che accolgono questi questi denari rispetto a quelli che abbiamo posto sempre noi noi poi non ci osserviamo ma rispetto all'Africa che cosa abbiamo combinato negli ultimi dalla decolonizzazione in avanti pensiamo soltanto alla Francia e alla sua politica rispetto alle ex colonie francesi che rimangono tra i paesi più poveri del continente africano forse forse qualcuno dovrebbe interrogarsi su queste cose perché sono passati 60 anni e questi paesi non hanno fatto un passo avanti se non avere magari delle strutture militari un po' più strutturate quindi su questa cosa io credo che sia importante riflettere rispetto al confronto per esempio Cina e Stati Uniti di come le due strategie che sono un po' diverse pensiamo appunto al rapporto con Latina America o col Centro America degli Stati Uniti l'appoggio sistematico a dittature dove poi c'è il fenomeno della repressione interna e quindi poi i migranti che arrivano che poi creano un casino politico negli Stati Uniti eccetera la Cina da questo punto di vista ecco per carità fa una politica realista cioè il Myanmar è una dittatura però la Cina non è che lo dice e fa qualcosa per come dire per creare la democrazia anzi magari gli vende anche le armi ecco forse probabilmente però quello per loro è un corridoio strategico rispetto al fatto di la dell'accerchiamento che loro spensano al quale loro pensano di essere soggetti e come il Pakistan anacologamente è un corridoio strategico per loro per arrivare all'Arabia Saudita al petrolio saudita eccetera eccetera per evitare di dover passare attraverso le forche caudine degli stretti controllati dagli americani per cui è una situazione complessa sono d'accordo ci sono tante variabili e tante forze in campo però ecco rimane il fatto che che è un momento in cui la Cina sta facendo sta costruendo delle istituzioni questo è interessante alternative al sistema di Bretton Woods sta creando diciamo una specie di fondo monetario alternativo cioè attraverso i BRICS attraverso la SCO la Shanghai Corporation Organization attraverso la BRI sta cercando di ha creato una banca per gli investimenti cioè in un certo senso è molto interessante come tentativo poi magari non riuscirà ecco non avrà sarà quello che trovo è che è interessante è che nel dibattito pubblico ecco buona parte cioè io credo che ci sia un pregiudizio nei confronti dei cinesi assoluto ecco nel senso che il punto di vista americano tende a prevalere sempre e comunque rispetto a qualsiasi cosa i cinesi facciano e quindi voglio dire diventa la trappola del debito diventa tutta una serie di cose che poi in realtà non sono vere cioè se uno le va a guardare ci va a studiare no? la trappola del debito rispetto a Sri Lanka non esiste nel senso che il debito era stato creato prima dell'intervento dei cinesi per le manie di grandezza dei governanti dei dittatori del Sri Lanka che hanno voluto costruire un megaporto dopodiché non erano in grado di fare fronte ai debiti e a quel punto hanno chiesto in giro e i cinesi si sono fatti avanti ovviamente no? per dire ecco quindi io non lo so ecco poi mi rendo conto che siamo in una situazione di movimento di dinamismo delle relazioni rispetto anche al recente passato e quindi bisogna studiare bisogna osservare bisogna vedere i casi cioè è difficile adesso ne parliamo perché sono dei punti di vista che però almeno per quanto mi riguarda sono in via di evoluzione continua perché mano a mano che uno guarda le cose scopre sempre cose nuove passaggi diversi altre modi di vedere di lettura chiavi di lettura credo che questo sia uno degli insegnamenti che ci dà questo periodo storico ecco cioè dobbiamo avere la mente aperta cercare di guardare soprattutto perché noi siamo europei e quindi siamo anche corresponsabili assoluti di tutto sto casino che è la globalizzazione visto che dal 1492 in avanti noi l'abbiamo creato questo mondo poi dopo dalla seconda guerra mondiale gli americani comandano però ecco fino alla seconda guerra mondiale gli imperi europei controllavano il mondo il casino l'abbiamo combinato noi in prima battuta ecco quindi abbiamo delle responsabilità enormi però non ne siamo molto consapevoli io credo ecco grazie Alessandro mi pare che non ci sono altri abbiamo fatto quasi un'ora e venti e quindi chiuderei qui se non ci sono controindicazioni abbiamo da ricordare che appunto c'è questo appuntamento il 5 settembre in cui discutiamo diciamo dell'Unione Europea credo che ci sia Andrea Amato che farà ci farà da Caronte sì ci traghetta Andrea Amato tra pochi minuti sarà disponibile su Facebook e le transport ma andiamo anche in giro nelle varie reti questa nostra conversazione grazie Alessandro grazie mille a tutti ciao ciao